Speriamo che resista, oggi è dura, oggi è dura, comunque guardiamo il tennis, vediamo se non paga l'emozione del grande palcoscenico, per ora paga un cattivo, un po' pure che nel primo set non riesca a ripigliarsi, a riprendersi Alessandro, eis, siamo 6 a 0. Come dicevi tu, quando viene a rete il primo set è una buona risposta, anche perché ha vinto pochino, ha dovuto fare la maturità quest'anno, e qua continua, siamo a 11 punti a 0, la ragazza che sulla media batte 169 km orari, qua veramente ti ha fatto vedere pochino per adesso. Ecco, adesso ha colpito, è il primo tiro che colpisce davvero, i rapalle del Navratilova, Reik Cardon, poi un altro Morettone, è stato presentato ieri sera ma l'ho dimenticato. Accidenti, una seconda pesante, e no qua va a farsi, mio Dio che regalo là d'Avento! 5 punti consecutivi Eeeh, da fuori del campo, risposta 15-30 Ace È andato a 108, è andato a 87, si è mossa Gran dritto Eh beh, questo è... Ha avuto la possibilità Ace Junon e Davenport Bellissimo questo qua, rovescio, clamoroso della piccola Che rischia molto su questo diritto, però ci va Troppo brava Cosa ha portato a casa? A lungo, a lungo clamoroso A lungo degno Eh beh, questo è un problema Vantaggio di Davenport Oh mamma mia Se ne va anche questo gritto E se ne va il primo set 6-1 Davenport in 21 minuti Eccola qua Facciamo un bel tutto Non per vincere Ecco per il momento hai ragione tu Perché tu hai detto Hai detto proprio nel chiacchierare Hai detto un bel 6-2-6-2 Anche questo colpo Insomma gioco una quantità di colpi E' entrata Beh stavolta ha avuto fortuna Alessandro Perché la palla poteva andare dovunque E poi Boom Proverso vincente a una mano News E' il servizio Ehi Sai queste cose sono le... Molto brava Giunone Si Era un buon attacco Passante E' totalmente impreparata Per una semifinale di Wimbledon Certo Non è che non la valga E' impreparata a giocarla 13-15 Ace Il secondo Risposta vincente di rovescio A rovescio Tipo anche i grandi australiani Gli anni 60 Spesso Emerson Quarto Ace Anche questo non è male eh E' uguale a là Gemi Stavonport E' con il servizio Gran rovescio Della Davenport Gemi Stavonport Ecco qui 5-1 Servizio Vincente Ecco qui La gioia Della Davenport Insomma Addirittura Esagerata In rapporto Alle difficoltà Dell'incontro Ma non esagerata In rapporto All'importanza Del risultato Due colpetti Sulla spalla D'incoraggiamento Alla sua giovane Avesaria Dice Bambina Hai tanto tempo Non è che lei Sia poi No no Alla sua giovane